bella ragazzi e benvenuti a questo nuovo video sono ai parenti 25 e oggi siamo su forest craft minecraft forest craft scusate oggi direi che che intanto alziamo il volume perché si sente niente non si sente ok infatti ok ora si sente il volume siamo qui su forest craft intanto andiamo a cercare qualcosa ricordarsi le coordinate ma mi devo scrivere era la stampante che faceva rumore qui intanto è pieno di cose andiamo col piccozzo qui se c'è una caverna direi di tentacci vediamo se intanto vabbè noi spacchiamo tutto sperando se vabbè scaviamo qua sull'acqua però sono qui su forest craft perché 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 adesso mi incastro ecco infatti appunto siamo qui su forest craft perché continuo così perché 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 e non fiume più perché wow si insieme noi ci diamo piccone sì dai sono qui su forest craft mi sembra la quinta volta che dico sono qui perché non posso fare più no oggi perché dovrei trasferire i dati di adventure time sul sul computer grande solo che non ho avuto tempo e quindi non c'è riesco a fare questo video e basta oh si carbone non c'è riesco a fare questo video e basta non c'è qualcosa di più resistente come fate appunto non c'è mancita ma ecco il bread 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 che non ci serve noi continuiamo a spaccare carbone perché così andiamo avanti nel gioco no e che non ci serve neanche tanto perché noi abbiamo già trovato il nostro villaggetto e ci abbiamo tutto facciamo la bella vita quindi adventure time amnesia vabbè adventure time quasi sicuro di farlo di che lo facevo oggi solo che se è così diciamo diciamo nei commenti se effettivamente le uova posso mangiarle o no poi proveremo ecco appunto adesso proviamo a vedere se le uova le uova che non trova è una patata è mettiamo a posto delle tocci visto che però non ci serve che cappero ok le uova si lanciano ok si che non era neanche una scoperta perché effettivamente è vero che cappero sto facendo oh si tutto carbone a volontà ce n'è per tutti domani usciranno due video uno con mio fratello sicuro beh quello la è assicurato ogni domenica rimanete sintonizzati sul canale perché uscirà il video di mio fratello punto come perché faremo un video in co-op però anche in gioco boh non lo sappiamo ancora o comunque se lo sapevo non vi spoileravo niente domani inizieranno i video o anche tre bene quello di adventure time forse anche quello di adventure time io ho avuto la di scribble no forse oggi perché sapete che non l'ho fatto quindi direi di fare anche quello perché non l'ho fatto prima di questo non lo so outlast mi occupava un po' troppo di spazio quindi direi di caricare prima gli altri video che ho in riserva e poi e poi e poi carichi e poi fare il quello di outlast perché io i video li elimino poi li faccio perché se no intanto andiamo a crearci qualcosa perché andiamo a creareci con il nostro tavolo da crafting facciamo parkour ritorniamo alla nostra cosetta che non mi ricordo neanche qual è questa eh buongiorno non c'è nessuno ok forse forse non so neanche a che minuti siamo perché non ho visto che ora abbiamo incominciato ehm allora creiamo la piccozza anche se effettivamente ecco no il bastoncino ce l'abbiamo creiamo che hai da no cioè piccozza che non perché non non si fa così no appunto perché cap però sto facendo tutto questo allora tu ti togli per favore oh abbiamo il piccone ora ritorniamo a scavare più forti che mai ehm domani a parlare io domani ci sarà anche un altro video che praticamente ehm un vlog speciale perché domani 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 oggi il 1 e il 2 febbraio ci dovrebbe essere l'evento di dragon ball quindi faccio tipo un speciale un vlog speciale dove appunto vi parlo di dragon ball e a parte spoilerare vabbè spoiler una cosa farvi vedere la mia espressione quando goku e farò vedere anche goku che si trasforma in dello god qualcosa del genere super saiyan god stati scherzando cioè 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 alcuni diciamo male ferranti ma cioè ma stai scherzando vero cioè scusa god ma che è e vi parlerò un po' di questo film anche pre film cioè il pre prima che andrò andrò a vedere il film dopo che andrò a vedere il film comunque perché sono ritornato qua allora intanto io sento ragni ragni che non non è un rumore molto gradito dalle mie parti mazza e vabbè scusate non mi quindi ci ero più abituato perché a minecraft non ci gioco da anni da quando io sono nata che ho minecraft con il computer non l'ho mai giocato ma infatti vedete come non so giocare effettivamente non so giocare ho parlato qualcosa da dread però però pochissimo perché ho visto solo due video di quella serie hardcore come lo potete chiamare voi intanto distruggiamo tutto perché siamo dei vandali a parte gli scherzi domani quindi avete capito cosa ah ecco punto cioè mi stavo spaventando altamente proviamo a vedere se qua sotto c'era niente niente facciamo tutto veloce perché ci piace andare veloce intanto ancora non ho trovato un dungeon niente schifo schifo di mondo è un villaggio cioè dungeon capisco che come serve il carbone no scendiamo così eh abbiamo preso è il tizio più intelligente del mondo non va a prendere la roccia credo sì la roccia metallo ehm quanti minuti siamo aspettate raga 8 minuti ancora 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 15 minuti facciamo sto video eh appunto eh mi stavo parlando del film sì vabbè scusate se non ho caricato per te vabbè ho avuto queste robe varie però però io non ho mai tempo quindi se io non carico video è perché non ho tempo o sto facendo i compiti o perché o perché o perché o perché martedì venerdì vabbè ve l'ho già detto c'ho gli allenamenti quindi ehm dove siamo finiti io mi ricordo che c'era del metallo dalla mia parte quindi io muo azz allora ok questa cazzo c'era mi piace ok non mi piace per niente o 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 direi di ritornare al nostro villaggino e costruisci armi per la sopravvivenza tanto qui ci abbiamo ci abbiamo quello che fanno le uova poca esperienza poca esperienza per due episodi pochissima ma andiamo dall'altra sponda direi non distruggiamo il villaggio tanto ci sono un sacco di uova che poi ancora non capita con la serba ammazziamoci ho un proposito lo torniamo un attimo a casa dato che ci sta facendo molto quindi torniamo torniamo la mia casa è pure illuminata la mia ma chissà qua poi la cambio cioè la mia casa ha il fogo appunto non era quella torna 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 levo a tomarla come ti è venuto il niente di andare a vivere in un postaccio come questo oh voi zii cioè la confraternita mi sa che dobbiamo ci dobbiamo passare la notte qua mezzo ai qui delle nostre eccola eccola è la nostra è la nostra oh oh zii che era con gli scherzi però per riposarci sono mostri nelle vicine lo sapevo eeeh ricrediamoci di qualcosa anche se non ricordo sicuramente come si creavano gli stivani gli stivani e l'elmo è questo aspettate guardate la magia io lo chiamo elmo ok ora abbiamo pure l'elmo che non ci sta rispondendo molto eh noi stavamo a rimanere giusto svegli ma non mi levante oh merdo oh merdo mi è venuto in mente non posso morir ah ok eeeh beh abbiamo perso tutto oh chi è il tizio ancora merda merda ciao mi è venuto in mente prendere le cose tu fai il tizio che cosa mazza sei incredibile che cosa ti vedi merda oh mi è mancato mi è mancato mi è mancato i piccoli eh ah mazza due volte sarebbe già finita la serie però eh merda va bene meglio 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 ok no niente basta finito che capo succede perché non posso prendere ma rimassa qui oh maledetti oh ma cioè rischio di morire ogni volta ogni volta sempre cioè vabbè io continuo perché fino a quando mi perdo il villaggio io rimarrò sempre con i miei cari amici carissimi amici rodrigo e palazio rodrigo e palazio è è la miglior cosa che voglio dire si si vai ci abbiamo fatto siamo ancora qui vivi direi di chiudere qui il video anche se volevo dire un sacco di cose che non ho detto però per oggi è tutto bene ragazzi non ho detto No, è che stavo registrando la domanda. E mi piace che ci siamo stati allucinati. Sono uscito, mi è venuta l'idea di uscire. Sono morti. Ma comunque, in un'altra domanda, è stato qui. Grazie. Sì, è stato appiccato. Grazie. 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 Grazie.